Forse avrete sentito nei giorni scorsi della scomparsa di Marc Auger, un importante sociologo, etnologo, antropologo, in parte anche filosofo francese, che ha avuto un grande successo negli ultimi, direi, 30 anni, sostanzialmente, soprattutto, a parte per i suoi studi antropologici, ma soprattutto per una definizione di non-luoghi. Questa espressione è stata estremamente popolare, ha avuto un grande successo, mentre sotto molti, oggi presenteremo questa dottrina dei non-luoghi, cercheremo di capire nel dettaglio cosa sono e che implicazioni hanno per la nostra società contemporanea, per il mondo globalizzato. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare, che pronuncio sempre in apertura di ogni video, come ci sono i soliti compagni d'avventura, Topolino, Tostoi, Batman, Andrei, Mostro Proviso Cuscino e un altro mostriciatolo qui, e poi mi presento anch'io, mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia su internet, però uso spesso il nickname di Scrippe e da 2020 su questo canale, in particolare su YouTube, realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che all'inizio soprattutto ripercorrevano il programma che si faceva alle superiori, poi si sono allargate al programma di molti esami universitari e poi in generale a rapprofondimenti, riscritture, analisi nuove e a volte anche letture integrali di opere, di storia, di filosofia e a volte anche di argomenti affini. Quindi in questo canale se mi interessa trovate davvero tanta tanta roba e in particolare questo canale è seguito da alcuni abbonati che ogni tanto mi fanno anche giustamente delle richieste tra cui mi è stato chiesto appunto di parlare di Marc Auger. Mi è stato chiesto di parlarne soprattutto perché questo importante studioso francese è venuto a mancare pochi giorni fa rispetto al momento in cui sto registrando questo video nel luglio del 2023. È stata ripresa questa notizia della sua morte su vari giornali ed è stata anche un po' ripresa brevemente la sua dottrina più famosa, quella appunto dei non luoghi, solo che i giornali chiaramente vanno abbastanza per l'approssimazione. Allora, oggi cerchiamo di capire che è stato questo Auger ma soprattutto cosa è questa dottrina dei non luoghi che è sicuramente il suo contributo più importante all'antropologia e alla sociologia diciamo dei giorni nostri. Prima però di vedere questa dottrina diciamo anche due cose brevemente sulla vita. Marc Auger è appunto sociologo francese, in parte anche filosofo, quindi ci sta dentro il nostro corso di filosofia è nato nel 1935 e scomparso appunto da poco nel 2023. Quindi comunque 88 anni se ne hanno fatto male i conti forse ancora raccompia 87 anni, comunque una veneranda età, francese nativo di Poitiers, morto proprio anche a Poitiers quindi nella sua città natale. Ma diciamo la sua carriera si è svolta per lo più a Parigi dove ha studiato e poi ha anche insegnato nella scuola di altri studi in scienze sociali che è una delle più prestigiose università cioè università centri di specializzazione francesi ed europei. E lì ha svolto la sua attività. In realtà per molto tempo il suo interesse da etnologo e antropologo è stato principalmente focalizzato verso l'Africa le società africane, i riti, le comunità africane. Poi però appunto a inizio anni 90 quando era già uno studioso di una certa età perché aveva quasi 60 anni ha pubblicato un libro intitolato appunto I non luoghi introduzione a una antropologia della surmodernità, così si sottotitolava il libro. Questo libro appunto rotato 1992 quindi 30 anni fa ha avuto un grande successo in Francia, in Europa, anche in Italia ma in generale in varie parti del mondo e quindi Auger è finito un po' sulla bocca di tutti perché questa sua definizione di non luoghi ha avuto un grande successo, probabilmente ha saputo cogliere anche una sensazione una serie di circostanze, di cambiamenti anche sociali che erano nell'aria ma che nessuno aveva ancora ben focalizzato del tutto e nessuno aveva saputo definire in maniera chiara. Questo gli ha permesso di avere un grande successo, ho scritto tanti altri libri sempre approfondendo questo tema però direi che non luoghi l'opera del 92 sicuramente l'opera fondamentale dove c'è sostanzialmente già tutto ciò che è importante sapere su questa dottrina. Come dicevo poi conferenza è venuta anche in Italia varie volte, anche negli ultimi anni tutto sommato qualche anno fa è stato perfino ospite da Fabio Fazio per dire che era un sociologo e sapeva anche parlare al grande pubblico e però appunto è venuto a mancare da poco detto questo, dette queste due note introduttive sulla vita presentiamo cosa sono questi non luoghi e che implicazioni hanno per la nostra società intanto cos'è un non luogo? in genere viene scritto tutto attaccato, a volte qualcuno lo scrive anche con la lineetta tra non e luogo ma il più delle volte lo trovate scritto tutto attaccato è il contrario di un luogo verrebbe da dire o meglio è un luogo che non è un luogo per capire cos'è un luogo quindi bisogna prima capire cos'è un luogo un luogo nel pensiero di osce ma in generale nella sociologia, nell'antropologia è un posto, una location, uno spazio geografico in cui però avvengono delle cose ci sono delle relazioni sociali, avvengono degli incontri in cui ci si scambia informazioni, in cui ci si scambia relazioni in cui ci si vuole bene, ci si oria, ci si litiga, si discute eccetera un luogo in cui avviene qualcosa di significativo un non luogo quindi che cos'è? è un spazio geografico, uno spazio nello spazio appunto uno spazio fisico in cui però non avvengono relazioni in cui non avvengono scambi, in cui non avviene niente di significativo ripeto, un luogo è uno spazio in cui avviene qualcosa di significativo un non luogo è uno spazio che assomiglia a un luogo perché è un luogo di fatto, però lì non avviene niente di significativo esempi, poi capiamo meglio cosa vuol dire esempi gli aeroporti, esempi gli autogrill, esempi i centri commerciali esempi le autostrade, esempi perfino i campi profughi e luoghi di questo genere, i centri commerciali, i supermercati eccetera sono luoghi, certo occupano uno spazio ci puoi andare in quei luoghi, anzi molto spesso scendiamo scendiamo ripetutamente ma sono luoghi in cui non avviene nulla di significativo a livello sociale non incontriamo persone, non interteniamo relazioni non scambiamo, non scambiamo idea, non discutiamo, non amiamo eccetera pensate a un aeroporto, in aeroporto ci si va e ci si va in epoche recenti molto spesso 70 anni fa, 100 anni fa nessuno andava in aeroporto se no rarissimi adesso gli aeroporti sono luoghi tutto sommato della nostra quotidianità almeno durante le vacanze magari eppure sono luoghi in cui passiamo senza lasciare in un certo senso traccia, o meglio la traccia rimane nei computer eccetera ma non conosciamo persone non scambiamo pensieri, informazioni con nessuno non scambiamo, facciamo neppure affari certo andiamo con il nostro biglietto, prendiamo un aereo ma sono scambi totalmente impersonali tutto sommato no? nei luoghi dell'età precedente alla nostra in fondo qualcosa avveniva si andava in piazza per esempio che è un luogo, perché la piazza della città è un luogo? perché lì incontri gli amici perché lì incontri conoscenti perché lì c'è magari la sede del comune e vai a trattare delle questioni con gli amministratori eccetera la chiesa era un luogo certo perché in chiesa andavi intrattenevi relazioni con il parroco con le altre famiglie eccetera la fabbrica era un luogo certo che era un luogo perché intrattenevi relazioni andavi a lavorarci ma poi avevi dei colleghi creavi sindacato eccetera 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 questi fabbrica, chiesa, piazza, comune o tutto quello che volete erano dei luoghi associazione, circolo sportivo tutti i luoghi in cui uno va perfino per certi versi lo stadio può essere una cosa del genere se si va come gruppo organizzato che ci va insieme conosce gli altri tifosi eccetera però esistono in parallelo a questi luoghi più tradizionali di incontro incontro e scontro se volete di confronto, di comunicazione esistono dei luoghi in cui non c'è nessun confronto non c'è nessun incontro reale ci si passa e si va avanti il supermercato ad esempio è qualcosa del genere tu entri al supermercato fai la tua spesa non parli con nessuno in genere non conosci nessuno e torni a casa non era così nella bottega di un tempo quando andavi dal bottegaio che so i nostri nonni andavano a fare la spesa nel negozietto di quartiere conoscevano il negoziante intrattenevano una relazione sociale con lui perché c'era un'amicizia perché c'era comunque una conoscenza c'era uno scambio di informazioni quando voi andate al supermercato questi ipermercati enormi non avete mai visto la cassiera la vedete una volta la volta dopo non c'è più lei c'è un'altra eccetera non c'è nessuna relazione in genere stessa cosa negli aeroporti stessa cosa negli autogrill dove addirittura passate non tornerete mai più in vita vostra prima passate prendete il caffè pagate andate via eccetera aeroporti autostali insomma tutti questi luoghi che sono però tipici dei nostri giorni in cui passiamo parecchio tempo se ci pensate quanto tempo passiamo al supermercato quanto tempo passiamo al centro commerciale e quante volte ormai nel tempo libero si va al centro commerciale piuttosto che in luoghi di cultura o luoghi di incontro ecco questi non luoghi sono luoghi fisici in cui però non c'è l'incontro non c'è il vero e proprio luogo e sono le cose più caratteristiche della nostra situazione storica dice Auger sono luoghi senza storia perché? perché ovviamente i luoghi non sono solo luoghi di incontro spazi in cui ci si incontra con gli altri sono anche spazi in cui c'è una storia andiamo in piazza vi dicevo prima e incontriamo i nostri amici certo ma in quella piazza ce n'è di storia un po' anche nostra personale perché se io vado in piazza in fondo non è certo la prima volta che ci vado non è neanche l'ultima cioè vedo ma c'è per esempio i negozi che ci sono sotto i portici e quel negozio mi ricordo che da bambino ci andavo quell'altro invece è nuovo quell'altro è diverso conosco il proprietario di quell'altro eccetera quindi c'è una storia personale anche con la piazza con certi ambienti della piazza ma poi c'è anche una storia vera e propria la piazza dei monumenti ad esempio a Rovigo la piazza principale si chiama piazza Vittorio Emanuele II c'è il monumento a Vittorio Emanuele II c'è la torre con il leone di San Marco perché Rovigo era stata sotto i veneziani ci sono dei palazzi storici c'è storia cioè io mi giro e vedo cose che hanno un vissuto diciamo così vedendo il leone di San Marco so che Rovigo è stata sotto Venezia vedendo Vittorio Emanuele II so che Rovigo a un certo punto è entrato a far parte del Regno d'Italia vedendo il palazzo comunale dove c'è proprio anche sul campanile il messaggio di Vittorio Emanuele II dopo la terza guerra di indipendenza dico sì ma Rovigo è entrata nel Regno d'Italia nel 1866 cioè respiri la storia sono le targhe sono le cose i monumenti i palazzi storici questo vale per la piazza ma vale anche per la chiesa vai in chiesa e trovi altari storici con che so il dipinto donato nel 1700 quest'altro nel 1600 l'altare a questo l'altare a quell'altro la tomba di un certo vescovo che è stato vescovo lì e così via andate prima dicevamo ad esempio in fabbrica anche in fabbrica c'è la storia della fabbrica certo magari è una fabbrica ipermoderna ma c'è la mia storia la storia di tanti lavoratori che hanno fatto delle cose che hanno spostato e ottenuto qualcosa eccetera ogni luogo vero porta con sé una storia ogni non luogo invece è privo di storia voi entrate in un aeroporto l'aeroporto non dà segni della storia non dice niente a voi non dice niente neanche agli altri è totalmente assettico un aeroporto voi ci entrate e sono un po' tutti uguali anche questi aeroporti se ci pensate entrati in uno entrati in un altro potreste se vi svegliate all'improvviso in un aeroporto non capire in quale aeroporto siete i sedili sono tutti uguali le vetrate sono tutti uguali in Italia e all'estero più o meno si assomigliano a tutti e non c'è niente di storico non c'è proprio nulla tutto viene rinnovato continuamente ed è totalmente impersonale per voi non vuol dire niente ma neanche per se stesso vuol dire qualcosa quell'aeroporto pensate a un centro commerciale un supermercato un ipermercato di quelli grandi anche lì per voi sentate oggi sentate domani ma viene continuamente rinnovato e quindi non rimane nulla perfino negli scaffali i prodotti cambiano non sono quelli della vostra infanzia non ci sono più se ci sono sono quella nuova grafica rinnovati irriconoscibili quindi una delle caratteristiche di questi non luoghi è anche il fatto di non portare con sé nessuna storia e non portare quindi con sé nessuna tra virgolette anima sono dicevo prima luoghi asettici che non ci comunicano niente che non ci dicono niente che non hanno una vera relazione con noi non sono solo luoghi in cui non riusciamo a creare relazioni con le altre persone perché non sono pensati per quello ma sono anche luoghi che non hanno una vera relazione con noi nei luoghi normali luoghi propriamente detti le relazioni si creano ma noi stessi siamo in relazione con quel luogo ripeto la nostra casa è la nostra casa è un luogo di incontro con i nostri familiari ma anche c'è tanta storia questi libri per me vogliono dire qualcosa perché sono parte della mia storia se entro in un centro commerciale magari posso anche trovare dei libri ma qui i libri non mi dicono niente perché non sono i miei libri non hanno una storia soprattutto se è una libreria molto molto commerciale sono libri che vanno e vengono quelle librerie degli aeroporti ad esempio non ci dicono niente non dicono niente a nessuno perché sono luoghi di estremo passaggio capito cosa sono i non luoghi però bisogna capire perché Auger ritiene che siano i luoghi i simboli tipici della surmodernità come la chiama lui allora questa surmodernità cosa vuol dire è una sorta di francesismo surmodernità che vuol dire in un certo senso supermodernità oltre modernità più ancora postmoderno che il postmoderno surmodernità è l'espressione che ho usato per dire oltre il postmoderno cioè nell'ipermodernità potremmo dire e i non luoghi sono i luoghi tipici dell'ipermodernità perché dice questo perché l'uomo contemporaneo secondo Auger la società contemporanea almeno quella occidentale è una società legata soprattutto alla precarietà al transito alla velocità all'iperdinamismo e anche soprattutto all'individualismo solitario e questi luoghi da questo punto di vista sono perfetti vi ho detto qual è la caratteristica tipica del nostro tempo la precarietà lo vediamo nel lavoro la vediamo nei rapporti personali questo l'ha detto molti sociologi non solo Auger in fondo guardate perfino le nostre relazioni sociali e matrimoniali sono precarie i matrimoni sono in calo clamoroso in tutto l'occidente e i divorzi sono in aumento clamoroso in tutto l'occidente la vita familiare è diventata estremamente precaria segno dei tempi certo non voglio dire bene o male ma così è il nostro lavoro è diventato precario i nostri nonni iniziavano il lavoro a 20 anni a volte anche a 15 e lo lasciavano alla pensione i nostri figli cambiano lavoro ogni 3-4 anni direi e si spostano una volta eravamo stabili in un luogo tutta la vita nascevamo e morivamo un po' come Moucher che è nato e morto a Poitiers anche se poi è stato a Parigi in giro per il mondo nascevamo e morivamo nello stesso luogo adesso si sposta si va in tutto il mondo allora il nostro mondo è diventato precario i non luoghi sono i luoghi più precari della storia in un certo senso perché? perché l'aeroporto ad esempio ci entri e ci passi è precario perché proprio ci passi di passaggio sono tutti luoghi che affronti di passaggio l'autogrill lo affronti di passaggio il supermercato lo affronti di passaggio sono tutti luoghi in cui passi e non ti fermi in cui passi velocemente in cui non lasci segni di te e in cui quei luoghi non lasciano segni su di te quindi precarietà anche in questo affronto confronto col luogo poi vi dicevo transito la nostra vita è sempre in transito e questi sono luoghi di transito luoghi di passaggio e poi vi ho detto individualismo vi ho detto che questi luoghi hanno la caratteristica di non creare relazioni sociali essere luoghi in cui non si creano relazioni sociali luoghi tradizionali ripeto le chiese i comuni le piazze eccetera luoghi di incontro in cui ti scambiavi idee o conoscevi o ti confrontavi o in qualche modo interagivi con le altre persone in questi luoghi non c'è nessuna interazione avete mai parlato con delle altre persone nell'ipermercato difficilmente se non magari per dire si mette in corda e facci in fretta no? avete mai parlato con persone in aeroporto assai difficilmente ancora meno probabilmente avete parlato conosciuti all'autogrill avete creato amicizia all'autogrill ma non crederò nessuno mai ecco perché? perché in questi non luoghi la società si spezza in un certo senso e si rimane soli siamo sempre soli in questi luoghi sono luoghi di solitudine a volte siamo con i nostri familiari certo ma anche se fossimo con i nostri familiari saremo piccoli gruppi isolati da tutto il resto non c'è confronto non c'è apertura non c'è interazione generalmente poi vedremo ci sono anche delle eccezioni a questo discorso ma in linea di massima questa è la tendenza no? e quindi il nostro tempo che secondo usè è un tempo di individualismo beh si sposa con questa realtà di questi non luoghi che sono luoghi vissuti individualmente mai socialmente per questo lo dice sono luoghi tipici della surmodernità di questa modernità portata alle estreme conseguenze anzi sono i luoghi dell'eccesso di modernità infatti dice sempre Auger i non luoghi sono luoghi dell'eccesso e la surmodernità è l'eccesso è una serie di tendenze che già abbiamo visto nella modernità però estremizzate in particolare Auger individua tre tipi di eccesso che sono tipici della surmodernità e quindi si riflettono anche nei non luoghi e sono l'eccesso di tempo l'eccesso di spazio l'eccesso di ego vediamoli brevemente eccesso di tempo in che senso? allora se noi ci guardiamo attorno ci accorgiamo di essere anche a livello informativo subissati da informazioni tutto quello che accade nel mondo ci colpisce in modi estremamente veloci questo uscire lo diceva negli anni 90 figuratevi oggi io apro il cellulare apro twitter apro facebook apro instagram apro un giornale online apro youtube e subito mi arrivano informazioni da ogni parte del mondo quando qui è giorno dall'altra parte del mondo è notte ma mi arrivano informazioni e viceversa in ogni momento tutto il tempo nel mondo è a mia disposizione e mi subissano se prima l'uomo del novecento l'uomo di 50 anni fa viveva un tempo molto dilazionato le notizie le apprendeva pensate prima del telegiornale aspettava il giorno dopo sul quotidiano poi col telegiornale certo a sera ma i tempi si allungavano enormemente e poche informazioni adesso con la globalizzazione in particolare siamo investiti da una mole di informazioni di eventi e questo ci dà un eccesso di tempo perché? perché noi siamo abituati di COG a collocare gli eventi nel tempo la nostra forma mentis è quello di dare un ordine agli eventi il tempo cos'è? è l'ordine degli eventi se tutti questi eventi da parti diversissime nel mondo a volte eventi brevi a volte più lunghi a volte più duraturi a volte più istantanei ci inondano continuamente facciamo una gran fatica dice lui a dare senso al tempo a dare ordine al tempo a dare ordine alle cose agli eventi alle situazioni a quello che sta accadendo e quindi viviamo una sorta di alienazione rispetto al tempo non riusciamo a organizzarci in questo tempo a capire dove siamo quando stiamo che sequenza di tempo stiamo vivendo la nostra vita quanto dura dove dura eccetera e questo ci porta a cercare più facilmente non luoghi dove il tempo si sospende anche questi non luoghi l'autogrill sono pause in una sequenza di eventi l'aeroporto sono luoghi di passaggio tra un tempo e l'altro quindi questo eccesso di tempo ci frastorna diciamola così ma non è solo l'eccesso di tempo è anche dicevo l'eccesso di spazio il pianeta con la globalizzazione ci sembra sempre più piccolo proprio perché informazioni di ogni dove ma non solo aerei che ci portano in ogni luogo noi stessi viaggiamo ci spostiamo enormemente di più di prima siamo dappertutto e non siamo da nessuna parte verrebbe da dire i non luoghi sono appunto luoghi che sono dappertutto ma non sono da nessuna parte aeroporti ci sono in tutto il mondo mentre la piazza di una città italiana c'è solo in Italia la piazza di una città tedesca c'è solo in Germania la piazza di una città inglese c'è solo in Inghilterra perché sono diverse perché hanno caratteristiche avevano quantomeno le piazze storiche caratteristiche diverse vedete ogni piazza ha la sua storia nel piazzo del Veneto vedete il leone di San Marco nelle piazze della Campania non vedete il leone di San Marco no vedete altre cose ogni piazza ha la sua storia ed ha i suoi legami col territorio con l'ambiente eccetera gli aeroporti no gli aeroporti sono assetti ci vi dicevo prima che un aeroporto italiano un aeroporto sudamericano poche differenze un aeroporto tedesco un aeroporto americano un aeroporto asiatico spesso molto simili no perché? perché sono luoghi privi di identità sono non luoghi e allora anche noi in un mondo sempre più piccolo in cui piccolo nel senso di da punto di vista esperienziale sempre più piccolo sempre più visitabile sempre più conosciuto in cui non riusciamo bene a raccapezzarci dove ci troviamo questi non luoghi ne sono il simbolo perfetto perché tu ti puoi svegliare ripeto in un aeroporto e non sapere in che aeroporto sei perché non si capisce finché non trovi una scritta che ti dica se hai l'aeroporto potresti non capire dove ti trovi no? e quindi ti trovi spaisato una sorta di oltre all'allenazione temporale di cui parlavamo prima anche una sorta di allenazione spaziale non sai bene dove sei e non sai bene che legami hai col luogo dove sei i non luoghi da questo punto di vista sono i perfetti rappresentanti di questa allenazione infine oltre ad un eccesso di tempo oltre ad un eccesso di spazio c'è anche un eccesso di ego dicevamo prima cioè di individualismo di solitudine anche se vogliamo ogni uomo forse anche per cercare di sopravvivere a un mondo così frastornante si chiude in se stesso proprio perché non trova più luoghi dove incontrare persone proprio perché non trova più tempi in cui incontrare persone proprio perché viene sconvolto da una serie di informazioni di dinamiche troppo veloci per lui l'uomo tende un po' a percepire il mondo come qualcosa di estraneo come qualcosa di alienante come qualcosa in cui sopravvivere e sopravvivere barrando a se stesso nel certo senso il rapporto tra l'uomo e il mondo diventa complicato lo era anche prima è sempre stato un po' complicato il rapporto tra l'uomo e il mondo ma nella società pre-moderna comunque tu il tuo mondo era il tuo villaggio e il tuo villaggio erano i rapporti sociali erano dicevo prima il rapporto col parroco il rapporto con le altre famiglie il rapporto con i cugini il rapporto con gli amici di infanzia eccetera questo era il tuo mondo e il tuo mondo ti dava anche rassicurazione ti dava sostegno ti dava aiuto ora il nostro mondo qual è? il nostro mondo è Bangkok è Tokyo è New York e se davvero è questo è un mondo che c'è distante per quanto a noi sembrino i vicini questi luoghi sono comunque distanti sono luoghi a cui per arrivare dobbiamo passare attraverso i non luoghi assettici e poi anche là siamo sempre pesci fuor d'acqua in ogni luogo perché noi anche quando andiamo a fare turismo ormai spesso secondo G viviamo il turismo in maniera surmoderna cioè viviamo il turismo come un passaggio da un luogo all'altro in un certo senso andiamo a vederci New York non per creare legami New York non per fare New York un paese della nostra storia personale ma vediamo New York a volte quasi come visitiamo un aeroporto quasi come visitiamo un centro commerciale non così nettamente ma la tendenza sembra essere sempre quella pensate invece ai viaggi di una volta che li facevano in pochissimi ovviamente ma che so il viaggio in Italia il tour in Italia dei grandi intellettuali del 700 dell'800 era un viaggio esperienziale era un viaggio di relazioni si intrattenevano amicizie si costruivano rapporti eccetera noi andiamo a fare questi viaggi e noi intratteniamo rapporti con nessuno non parliamo con nessuno sostanzialmente si può andare in una grande città che so americana New York e parlare un po' con quello dell'albergo parlare un po' ma ormai con le app non abbiamo neanche più bisogno di parlare vi rendete conto ormai con le app ci compriamo il biglietto della metropolitana dal cellulare ci compriamo il biglietto del museo dal cellulare mostriamo il cellulare ed entriamo scambiamo sempre meno parole vi siete resi conto di questi cambiamenti degli ultimi anche anni rispetto a dieci anni fa vent'anni fa che almeno dovevi un po' interagire dovevi parlare un po' inglese per interagire con le persone che incontravi i negozianti questo è quello adesso col cellulare ti risparmi almeno una parte di queste interazioni il che vuol dire però sempre chiudersi di più in se stessi e quindi un eccesso di ego che vuol dire isolamento dalle comunità vuol dire che ci sono io e basta il mondo mi rimane molto distante ci siamo noi al limite il nostro piccolo gruppo i nostri piccoli amici i nostri familiari e nessun altro e parliamo tra di noi potremmo ripeto andare in una città straniera e parlare sempre solo di tra le notte di noi e cavarcela col cellulare con pochissime minimali interazioni con il resto del mondo senza assaporare la cultura locale senza cambiare o andare incontro a questa storia locale senza avere una vera interazione avere un'interazione fredda distante come si ha in un centro commerciale come si ha in un aeroporto tu vai compri quello che vuoi vedi quello che vuoi ma tanto lo vedi fino a un certo punto perché ci fai le foto perché l'oggetto diventa quasi una merce da non da che ti cambia che interagisce con te ma da guardare da fotografare da mettere sul catalogo di instagram come si fa quando si va al supermercato che mi compro questo mi compro quello faccio la foto a questo quadro faccio la foto a quest'altro quadro a volte abbiamo tendiamo ad avere poi con mille eccezioni ma secondo me tendiamo ad avere un rapporto con anche quelli che sarebbero luoghi in modo da trasformarli in non luoghi un museo sarebbe un luogo un museo è carico di storia è un luogo anche di incontri quantomeno anche se non parli per forza con gli altri parli con i quadri parli con le opere cioè è un luogo di cambiamento di relazione col mondo anzi il museo forse è il luogo di maggior relazione col mondo teoricamente tu entri in un museo perché vuoi uscirne cambiato speri di uscirne cambiato se il museo è un museo di qualità e però a volte facciamo un'esperienza dei musei simile all'esperienza che facciamo con i centri commerciali e purtroppo non è una gran cosa questo perché perché è la tendenza della sua modernità quella di per colpa di questo eccesso di tempo di spazio e di ego di trasformare un po' anche i luoghi in non luoghi e quindi anche quelli che sarebbero posti in cui potresti cambiare potresti crescere potresti creare legami potresti maturare luoghi assettici che non ti dicono in realtà niente che non ti cambiano in profondo ovviamente tutto questo si lega al fenomeno della globalizzazione che secondo G è il motore principale verso questa spinta ai non luoghi all'individualismo alla strana dispersione di spazio e tempo eccetera ma diciamo qualcos'altro sui non luoghi in base a quello che abbiamo detto i non luoghi hanno anche altre caratteristiche ad esempio sono standardizzati cioè sono tutti simili tra loro vi ho detto ma soprattutto tutti creati secondo una rigida ragione efficientista pensate agli aeroporti gli aeroporti sono fatti in modo che tu entri hai i vari gate sai dove devi mettere il bagaglio dove devi far questo poi passi il controllo di sicurezza hai i negozi che sono fatti apposta per offritti quello di cui potresti aver bisogno per venderti i prodotti poi hai l'accesso alle varie entrate hai tutto calcolato le varie non so come si chiamano tutte le parti degli aeroporti però tutti non so le aperture verso dove arrivano gli aerei in modo efficiente bisogna che tutta la movimentazione di bagagli di passeggeri eccetera sia ispirata alla massima efficienza a non perdere tempo a non perdere spazio a rendere tutto il più fruibile possibile pensate al supermercato anche lì sapete bene che nel supermercato soprattutto negli ultimi decenni le merci vengono risposte secondo un criterio molto efficientista che so le bibite le cose pesanti alla fine prima certi prodotti poi ben riconoscibili le zone non solo quando arrivi alla cassa ti mettono quei beni di consumo leggeri le caramelle le tiramolle le cose così gli sfizi per spingerti a rire vabbè tanto ormai una cosina in più non cambia niente cioè tutto è finalizzato ad aumentare un po' l'efficienza della tua spesa perché devi sapere dove stanno le cose far presto anche a creare il carrello disponendo le cose in maniera abbastanza chiara poi metterle sul nastro alla cassa in maniera più veloce possibile perché le casse devono lavorare a sprombattuto eccetera ma poi anche a spingerti a comprare di più e a spendere più soldi di quanti dovresti in un certo senso quindi c'è tutta una logica del mercato del marketing che in supermercato è particolarmente forte ma sempre in un'ottica di efficienza riduzione dei tempi riduzione dei costi massimizzazione del profitto stessa cosa in fondo anche negli autogrill in tutte le zone di questo tipo ora i nuologhi hanno questa caratteristica mentre ovviamente i luoghi tradizionali non avevano questa spinta all'efficienza clamorosa una chiesa non è che sia pensata con un'ottica di efficienza tu entri fai in fretta preghi esci no non è fatta per fare le cose in fretta una chiesa è fatta per fare le cose lentamente anzi è anche dispersiva una chiesa ti distrae pensate alle chiese barocche ti distrae con cose che non servirebbero ripensare al fedele c'è tanto in più rispetto a quello che sarebbe l'efficienza ma questo è ciò che la rende un luogo stessa cosa una piazza una piazza è tutt'altro che efficiente di solito è dispersiva anche la piazza però è fatta per essere dispersiva perché un luogo è dispersivo è solo in un luogo a non essere dispersivo capite questa è una differenza fondamentale d'altra parte bisogna dire che nei non luoghi tutto è effettivamente calcolato c'è una razionalità non solo diciamo di mercato ma anche matematica potremmo dire gli spazi sono calcolati le dimensioni sono calcolate l'altezza degli scaffali è calcolato la capienza dei carrelli è calcolata tutto è calcolato sempre in un'ottica di standardizzazione cioè modelli che si ripetono quando funzionano tutti devono fare così e in un'ottica di efficienza ovviamente questo presuppone che non solo l'ambiente il non luogo sia standard ma anche tu che ci entri vieni in un certo senso standardizzato dall'ambiente per questo sono luoghi impersonali perché non ti dicono niente ma ti trattano trattano anche te come se fossi una persona che non ha caratteristiche proprie sei un uomo standard una donna standard quando entri al supermercato supermercato tu puoi avere la passione dei biscotti i biscotti stanno sempre là non è che a te ti dà le cose prima o dopo tu puoi avere la passione di un certo bene di un certo prodotto alimentare ma sta sempre in quello scaffale alla quarta fila magari un po' nascosto perché non conta quello che piace a te conta quello che piace alla media e quindi la media sa che spende più soldi qua più soldi là allora mediamente si crea uno standard che va bene all'uomo comune all'uomo medio e però a te magari crea qualche disagio perché per prenderti il prodotto che ti piace che è là sopra devi arrampicarti e prendertelo e però questo vuol dire che il non luogo ti spinge a uniformarti a standardizzarti cioè ti dice ma devi proprio prenderti quella cosa che ti piace lì in alto ma perché non prendi questa che piaccia quasi tutti e ce l'hai portata di mano e magari su qualcuno riesce ad avere questa presa no tu dici vabbè prendo questo capite il non luogo è lui standardizzato ma tende anche a standardizzare chi lo utilizza se voi andate se voi andate in un aeroporto voi potete anche ben dire mai piacerebbe un aeroporto diverso ma l'aeroporto è fatto così e sei tu che ti devi adattare all'aeroporto non l'aeroporto adattarsi a te capite stessa cosa gli autogrid stessa cosa l'autostrare stessa cosa tutti gli altri non luoghi che abbiamo citato ok quindi tu quando entri in un non luogo non sei più una persona ma diventi un cliente diventi un un fruitore diventi un non lo so una persona che ha un'identità che non è l'identità sua vera e propria ma è l'identità della categoria se tu entri in supermercato diventi un acquirente fine e lo standard è quello dell'acquirente tu ti devi uniformare in qualche modo lo standard dell'acquirente medio se tu entri in un cinema di quelli dei centri commerciali diventi un fruitore di contenuti magari anche stupidi e quindi tu puoi anche dire vorrei un film d'arte no i film d'arte quando li facciamo vatti a cercare un cinema che sia un luogo vero d'altrove qui al centro commerciale che è un luogo ti diamo solo i film di intrattenimento e quindi quelli che fanno gli incassi maggiori al botteghino vuoi il film strano vattelo a cercare in un cineforum tu che sei uno strano intellettuale che cerca ancora dei luoghi qui facciamo solo i blockbuster americani perché questo è quello che vuole l'utente medio e tu devi uniformarti all'utenza media capite tu puoi anche dire ma io vorrei una cosa no è questo che è il potere pervasivo e anche alienante se volete di non luoghi secondo me che ti costringe adattarti al non luogo a questa standardizzazione fondamentale ovviamente questo abbiamo detto vale per i non luoghi ma tende a valere anche per i luoghi perché i luoghi quando soprattutto li visitiamo come turisti tendono a standardizzarsi in questo senso ad esempio andiamo a new york ormai o andiamo a londra o andiamo a berlino o andiamo a parigi dove volete e prima cosa facciamo quando proviamo a preparare il nostro viaggio o guardiamo online le mete da visitare o perché non possiamo non visitare quella meta perché i nostri amici su instagram hanno messo la foto dobbiamo andarci anche a noi e quindi tutti fanno gli stessi giri aprite instagram guardatevi le foto di che so parigi o le foto di berlino o le foto di milano sono sempre quelle le foto di napoli ho visto decine di ragazzi ovviamente vanno a napoli tutti con le stesse identiche foto vanno tutti le stesse identiche posti o lo faccio anch'io non sto criticando gli altri siamo tutti dentro a questa tra virgolette piccola gabbia per cui ci sentiamo obbligati a fare gli stessi giri degli altri nel senso che stiamo trasformando anche i luoghi veri perfino le strade di napoli che sono i luoghi per eccellenza in non luoghi in posti in cui andare a far la foto perché bisogna farla perché siamo obbligati perché questo è quello che si fa perché questo è quello che ci viene richiesto e quindi siamo dei fruitori e non delle persone che vanno a napoli per cambiare loro o per incontrare la realtà poi ci sono mille vie di mezzo ovviamente tra un estremo e l'altro però capite che la tendenza è quella non solo dei non luoghi di essere così alienanti ma a volte anche dei luoghi di tendere di iniziare un pochino ad assomigliare ai non luoghi ultime due cose da dire allora la teoria di Auger dei non luoghi è stata spesso ben accolta cioè molti hanno detto effettivamente Auger ha accolto qualcosa di vero eccetera qualcuno però l'ho anche criticato e la critica più interessante secondo me che poi Auger ha in parte anche accolto è negli anni successivi a questa gli è stato detto sì ok è vero che i centri commerciali gli aeroporti eccetera sono dei non luoghi ci sono diversi luoghi tradizionali ma guarda bene che i centri commerciali ad esempio possono dopo un'iniziale fase di non luogo anche riguadagnare una loro socialità e diventare luoghi cioè ad esempio i ragazzini vanno nei centri commerciali questo era vero soprattutto una volta per gli Stati Uniti ma sta un fenomeno che forse si verifica anche in Italia per socializzare a volte come luogo di aggregazione come se fosse una nuova piazza non più la piazza della città ma la piazza del centro commerciale dove certo si fa shopping si va si va al cinema eccetera ma si va per stare insieme per incontrare gli amici che altrimenti non si incontrano in un mondo in cui le piazze i centri storici perdono di valore le nuove piazze iniziano ad essere forse anche i centri commerciali quindi non è solo che uno va al centro commerciale per far compere ci passa transit e va ma ci sono frotte di ragazzini che ci passano giornate ai centri commerciali ma non solo per spendere anche per spendere ma soprattutto anche per stare in compagnia dei loro amici quindi per creare socialità quindi questi greci hanno detto è vero che questi luoghi hanno caratteristiche diverse dai vecchi luoghi e che in parte sono figli di questa alienazione della globalizzazione in parte è vero ma è anche vero che le persone tendono a riguadagnarci spazi di socialità lottando con questa tendenza e i ragazzi in particolare in certi centri commerciali in certe realtà sembrano riconquistare spazio per la socializzazione e questo Marco G. ha detto in effetti è vero che in certe situazioni i non luoghi possono anche tra virgolette migliorare cioè recuperare qualcosa che avevano perduto e quindi certi non luoghi in particolare si è parlato spesso di centri commerciali che sono forse l'esempio più efficiente perché negli autogrill nessuno si incontra negli autogrill o negli aeroporti nessuno va a fare compagnia negli aeroporti ma nei centri commerciali sì si va al cinema si va al fast food ma si va insieme si va in gruppi e si incontrano altri gruppi e si socializza e a volte si litiga e a volte si fa invidia e a volte invece ci si trova con gli amici insomma possono ritornare ad essere luoghi di socialità questo vuol dire però anche che questi centri commerciali devono diventare anche luoghi stabili cioè non devono poi scomparire e cambiare continuamente diventano luoghi sociali se questi gruppi di ragazzi creano la loro storia dentro il centro commerciale capite prima ho detto che i luoghi veri hanno anche una storia anche nel rapporto personale e allora bisogna conquistare questi spazi verrebbe da dire i ragazzi riescono a trasformare questi non luoghi in luoghi a patto che sappiano guadagnarci gli spazi conquistarseli tenerseli questa è la nostra panchina questo è il nostro negozio questo è il nostro cinema e bisogna che i cinema non chiudano e riaprano bisogna che l'arrenamento non cambi continuamente bisogna che ci siano anche lì dei luoghi di aggregazione delle sale giochi delle cose dove si può fare gruppo che restino come pezzo di storia quindi è anche una lotta per la riconquista di questi non luoghi in un certo senso questo è un discorso interessante che ci dirà il tempo se poi ha avuto senso oppure no l'altro discorso ultimo da fare all'inizio ve l'ho detto centro commerciale autogrill bla 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 e poi vi ho forse mi pare avevo accennato anche campi profughi ebbene Auger tra i vari non luoghi parla anche dei campi profughi e questo è un discorso interessante perché si lega al fenomeno dell'immigrazione che è un altro dei fenomeni connessi alla globalizzazione e poi in questi ultimi anni particolarmente forte secondo loro secondo lui secondo Gé i migranti che poi vengono riuniti in campi profughi o in centri di detenzione o in centri di accoglienza in mille declinazioni a seconda dei paesi a seconda delle situazioni vengono comunque staccati dal loro territorio d'origine e buttati in un certo luogo che per loro non luogo un campo profughi è un luogo di passaggio teoricamente tu ci stai un po' ma non devi mettere troppe radici perché poi verrai spostato altrove un campo di accoglienza o una zona di accoglienza stai lì ma stai lì due settimane un mese quel che è e poi ti mandiamo altrove quindi è inutile fare radici nel territorio perché non sai dove finirai e questa precarietà questo passaggio rende questi campi dei non luoghi il problema qual è? che a volte succede che questi profughi non riescono a lasciare questi campi non riescono a uscire da questi non luoghi perché per questioni politiche per questioni di discussione sull'accoglienza eccetera e quindi si trovano a vivere mesi, anni parecchie volte anche in luoghi che non sono luoghi in cui non si sentono veramente a casa in cui non riescono a mettere radici in cui non riescono a creare una loro storia pensate ai profughi palestinesi ad esempio o pensate ad altri campi profughi di minoranze spostate eccetera in attesa di una casa di un territorio di qualcosa dove creare un luogo vero cioè con la loro storia con le loro radici con anche i loro investimenti le loro fatiche eccetera lì sempre in sospeso in questo limbo ecco non luoghi sono luoghi di limbo no? di passaggio di precarietà però a volte non sono solo i luoghi dove andiamo a spendere i soldi dove andiamo a divertirci perché spesso sono luoghi di divertimento e non luoghi no? il cinema il centro commerciale di svago no a volte sono anche luoghi di una precarietà più tragica che è quella appunto una delle precarietà più tipiche della nostra situazione surmoderna come dice Auger che è la migrazione la realtà della migrazione segno che non luoghi non solo sono alienanti alienanti per le società consumistiche per noi che siamo ricchi e abbiamo soldi da spendere ma sono alienanti anche per le società più povere o per chi va in cerca di una miglior fortuna ma anche anche le società più povere si può fare l'esperienza tramite la migrazione dei non luoghi ecco questo era quello che volevo dirvi per darvi una panoramica spero completa e sufficientemente efficace della dottrina dei non luoghi di Mark Auger spero di averla spiegata bene spero di avervi soprattutto dato tutti i punti di vista le le declinazioni di una teoria anche complessa i giornali l'hanno anche riportata a volte in maniera se vi dicono i non luoghi sono dei supermercati si ma bisogna capire cosa questo implica e cosa vuol dire per noi ecco spero di aver dato una panoramica più possibile chiara e abbiamo finito in descrizione come sempre comunque trovate i titoli in cui ho visto questo video per ascoltarvi un pezzo oppure un altro e trovate anche il link a tutte le playlist per orientarvi per il canale se volete espandere il discorso sempre in descrizione infine trovate i modi per rimanere in contatto tramite i social network e la newsletter che lo twitte settimanali dove parliamo spesso di libri di attualità di film di varie cose vi la consiglio caramente e poi sempre in descrizione trovate anche i modi per sostenere questo progetto vi ricordo che questi video sono possibili anche grazie all'aiuto di chi ci sostiene in mille modi diversi lì trovate tutte le informazioni libri merchandising soprattutto anche l'abbonamento al canale youtube vi ricordo che è una cosa che ci dà una mano voi per pochi euro al mese ci date questo sostenio in cambio poi in quel caso ricevete anche dei vantaggi esclusivi come dispense di filosofia come dirette riservate come una chat telegramma riservata come l'opportunità di chiedere video come è stato anche fatto per qui per ogè e altre cose ancora basta ho detto tutto ci vediamo presto per altri video di storia di filosofia di educazione civica di attualità insomma di tutto quello che c'è da sapere in queste discipline ciao alla prossima ciao